Kublai Khan, l'imperatore che riunificò la Cina Kublai Khan, nato il 23 settembre 1215 e morto il 18 febbraio 1294, fu il quinto Kagan dell'impero mongolo dal 1260 al 1294, nonché il primo imperatore della dinastia Yuan, che governò la Cina dal 1271 al 1368. Kublai era il nipote di Gendis Khan e figlio di Tolui e Sorgatani Becchi. Fu un comandante militare abile e un amministratore capace, che si distinse per la sua lungimiranza e la sua apertura mentale. Nel 1271 Kublai si proclamò imperatore della Cina e fondò la dinastia Yuan. L'obiettivo di Kublai era quello di unificare la Cina sotto un unico governo, dopo secoli di divisione. Per raggiungere questo obiettivo, Kublai dovette sconfiggere la dinastia Song meridionale, che controllava la parte meridionale della Cina. La guerra tra i mongoli e i Song durò diversi anni, ma alla fine Kublai riuscì a sconfiggere i Song nel 1279. Con la conquista della Cina meridionale, Kublai riunificò la Cina per la prima volta dal 316 dc. Come imperatore della Cina, Kublai adottò molte politiche innovative. Cercò di conciliare le culture mongola e cinese, e incoraggiò il commercio e l'interscambio culturale tra le due civiltà. Kublai fu anche un grande costruttore. Fondò la città di Kanbalik, l'odierna Pechino, che divenne la capitale della dinastia Yuan. Inoltre, ordinò la costruzione di una serie di grandi opere pubbliche, tra cui la grande muraglia cinese e la via della seta marittima.K. Kublai Kan morì nel 1294, all'età di 78 anni. Il suo regno fu caratterizzato da un periodo di grande prosperità e stabilità per la Cina. Le conquiste militari di Kublai Kan Kublai Kan fu un abile comandante militare, che conquistò un vasto impero. Le sue principali conquiste militari furono le seguenti, la conquista della Cina meridionale, che portò alla riunificazione della Cina sotto un unico governo per la prima volta dal 316 dc. La conquista della Corea, che fu sottomessa alla dinastia Yuan nel 1273. La conquista del Giappone, che fallì nel 1274 e nel 1281 a causa dei tifoni. La conquista della Persia, che fu sottomessa alla dinastia Yuan nel 1265. La conquista del Tibet, che fu sottomesso alla dinastia Yuan nel 1260. Le politiche di Kublai Kan Kublai Kan fu un imperatore lungimirante e aperto al cambiamento. Le sue principali politiche furono le seguenti, l'adozione di politiche di conciliazione tra le culture mongola e cinese. Kublai cercò di creare un governo unificato che fosse in grado di soddisfare le esigenze di entrambi i popoli. L'incoraggiamento del commercio e dell'interscambio culturale. Asterisco asterisco Kublai promosse il commercio tra la Cina e il resto del mondo, e incoraggiò i contatti culturali tra le diverse civiltà. La costruzione di grandi opere pubbliche. Asterisco asterisco Kublai ordinò la costruzione di una serie di grandi opere pubbliche, tra cui la grande muraglia cinese e la via della seta marittima. Il lascito di Kublai Kan Kublai Kan è considerato uno dei più grandi imperatori della storia cinese. Il suo regno fu caratterizzato da un periodo di grande prosperità e stabilità per la Cina. Kublai Kan fu anche un'importante figura nella storia mondiale. Le sue conquiste militari e le sue politiche di apertura culturale contribuirono a diffondere la civiltà cinese in tutto il mondo. Conclusione. Kublai Kan fu un imperatore complesso e sfaccettato. Fu un abile comandante militare, un amministratore capace e un visionario leader politico. Il suo regno ebbe un impatto profondo sulla Cina e sul mondo intero.